Maroon 5 con This Love, grazie mille a Marilena che al 3317853555 ha scritto che bella sta canzone, bella scelta, buona giornata Fabio e dice ma se mi metto a ballare e cantare in metro sembro pazza, ma secondo me no, ma lo chiedo a una che insomma balla e canta tanto e bene. Amo sembro una drag. Ah ok, va bene, ottimo, ottimo, ottimo. Ben ritrovata alla Prada appunto che avete già sentito nella prima parte poco fa insieme a Tamara, ma adesso insomma entriamo nel vivo. La Prada, Drag Queen, che cos'è una Drag Queen Prada? Devi farci un po' di ABC, sei il nostro Alberto Angela in questo momento, va bene. Più un Alessandro Barbero magari. Ah non sei una bimba di Alberto, sai che sono queste fazioni. E io sono più Alessandro Barbero, perfetto, perfetto, ok, va bene. E allora Prada, noi pendiamo dalle tue labbra, una Drag Queen, chi è? Che cos'è una Drag Queen? Chi è? Allora, io spiego sempre la Drag Queen come una performance, per esempio un mestiere, piuttosto che un'identità. Ecco, io non mi sento una donna nella vita di tutti i giorni, mi sento una donna per quei tre minuti di performance, ma perché il mio mestiere me lo richiede questa finzione. E la spiego sempre come un eccesso di gender, un eccesso di genere, che può essere un eccesso di femminilità o di mascolinilità o un eccesso di altri stilemi del gender che abbiamo noi come società. E la Drag gioca proprio su questo, su questo eccesso di donna, su questo eccesso di uomo sul palco, con la paillette, le piume di struzzo, il tacco vettiginoso. Effettivamente non ho mai avuto un ospite che si vestisse così elegante e così bene la mattina, devo dire, effettivamente. Cosa sono? Le 8 e 20 del mattino effettivamente non ho mai... Sì, infatti una paillette maronne mi sembrava la cosa più adeguata per una mattina. Sembra che c'è anche in tinta poi quello dello studio, quindi veramente complimenti. Armo cromica. Armo cromica, mamma mia. Io non ci credo comunque. Oh, grazie, grazie, grazie per essere del club allora. E diciamo quindi, questo eccesso viene portato sul palco, no? Yes, sì. Nelle performance che fanno che cosa? Tanto divertire, prima di tutto sicuramente. Allora sì, la drag queen, non dico che nasce come un personaggio comico, perché non... Però negli anni è rimasta questa punta di fondo. Non sai quella roba, fa ridere ma anche riflettere, no? Fa ridere ma anche piangere. Ok. Più che riflettere, riflettere noi. Diciamo che in questi ultimi anni, da metà secolo in poi, dagli anni 50 in poi, è diventato proprio un personaggio comico, in se per sé, perché comunque il gender, il genere fa ridere. Cioè, se ci pensi, una donna con le tete troppo grandi, con i tacchi troppo alti, un uomo con le braccia troppo grandi, fanno ridere perché è un eccesso, perché ti mostra quanto fondamentalmente siano stupidi tutti questi stereotipi, tutte queste caselle che noi ci mettiamo. Io guardo i tuoi bellissimi occhi, Fabio, non so se devo guardare in telecamera o... No, no, guarda pure la telecamera, ragazzi. Guarda i miei bellissimi occhi, ma guarda pure in telecamera, non c'è problema. Siamo dei personaggi comici. Era una battuta, infatti, quella dei bellissimi occhi. Diciamo a chi ci segue la casa, infatti. Appunto, questo eccesso che viene portato sul palco non è solo un personaggio comico, ma la cosa che mi ha colpito è che dicevi, no, perché sei l'ultima metà del secolo, gli anni 50, perché attenzione, non è una cosa di oggi. Io dico, ecco, ecco, cosa si sono inventati i giovani d'oggi? No, per niente. Cioè, dobbiamo tornare veramente all'alba dei tempi per parlare della storia del drag. Io dico sempre che noi siamo il terzo mestiere più antico del mondo. Il primo lo sapevo, ecco, il secondo quale sarebbe? Il secondo è il becchino. E il terzo è la travestita. Ma perché noi, quando in società ci siamo messi capi d'abbigliamento, abbiamo detto questo è da uomo, questo è da donna, è nato il travestitismo. Ok, chiaro. Come pratica. Come pratica, non sempre in intrattenimento, tipo Antica Grecia è fatto per il divino, è più un esplore religioso. Poi negli anni si è evoluto e anche il fatto che la donna non potesse stare a teatro, questa è un'invenzione antichissima che ci siamo dati. E perché non poteva stare a teatro? Perché gli antichi credevano che il corpo della donna fosse così debole che potesse esplodere sul palcoscenico. Perché nell'antichità, nell'antica Grecia, così, tu, il corpo del divino, il Dio entrava in te per essere interpretato in quel momento. il corpo della donna era debole. Visto che non ci ho visto lontano, ho detto che è Alberto Angela, però. Vedi dove ci hai portato? Vedi dove ci hai portato? Mi spiace, mi spiace. Un salto di qualche secolo più avanti si arriva invece, appunto, alla Prada. Qualche millennio. Qualche millennio più avanti. Non sono così vecchia, Fabio. Perché sei un'istituzione, amai, cara Prada. La Prada è un'istituzione a Milano. La fondazione. La fondazione La Prada non c'entra nulla. Però, insomma, non sei la fondazione, ma quasi. Nel senso che, appunto, dal 2018 è iniziato. Mi piace quando prima mi hai detto che è iniziato in maniera amatoriale e poi è diventato invece la mia professione. Perché, appunto, c'è proprio anche una distinzione, nel senso che diventa proprio un mestiere a un certo punto. C'è chi va a bottega e chi va sul palco a fare La Prada. Non dico altro. Sì, allora, io ho iniziato nel 2018 al Toilet Club Milano. Che è una discoteca, una realtà che c'è ancora adesso. Prima stava in Viale Padova, adesso ho cambiato location. Però loro sono molto fighi e mi piace molto come realtà perché ancora oggi mettono nei loro spettacoli uno o due slot per drag nascenti o queer performer nascenti, così. Io ho iniziato lì. Per i primi due anni pagata con un free drink. Il free drink era la mia paga. Però mi piaceva così tanto farlo. Anche perché il drag è un'unione di tantissime cose. Costumista, truccatore, parruccaio, coreografo, regista, cantante. Che fai tutto da sola. Yes, yes. Perché è questo, no? Ancora oggi faccio tutto da sola. Se qualcuno vuole farmi da team creativo, io sono qui. Però no, è proprio il bello anche proprio quello. Cioè, crearsi questo personaggio e crearlo giorno dopo giorno proprio da sola. Cioè, tu sei quella cosa lì per quei tre minuti di cui parlavi. Ma insomma, per quei tre minuti lo sei sul palco. Ma poi c'è tutto un lavoro dietro che dura anni, mesi, immagino. Sì, sì, sì. Dura giorni, dura ore. Ed è bello farlo. Perché se no, non lo fai. Perché non lo fai per i soldi, non lo fai per i follower. Così. Lo fai perché ti piace. Ti piace. Stai fino alle tre del mattino a cucire o fai una parrucca. Stai in bagno, in doccia e ascoltai sempre la stessa canzone. Perché devi imparare quelle parole per la performance. Perché una delle tecniche che si utilizzano è quella del lip sync, giusto? Cioè, quello che noi comuni mortali chiameremo playback. Ma non è proprio la stessa cosa. Perché non è cantare solo in playback. Ma proprio interpretare e appunto sincronizzarsi con la canzone, giusto? Labbra sincronizzate. Che non è una cosa che abbiamo sempre fatto. È una cosa nata negli anni 50 col Jubox. C'è una storia molto divertente su come è nato il primo lip sync. Praticamente c'è questo sconosciuto, questa sconosciuta, che mette una canzone, anche questa sconosciuta, non la sappiamo, si mette su uno sgabello, mette le sue ginocchia dentro al maglione, le gambe dentro al maglione e le ginocchia sembrano un paio di tette. E inizia a cantare, mimare la diva che c'è al Jubox e quello è il primo lip sync della storia. Gli anni 50. Quello è l'arrivo del Jubox appunto. Quindi anche lì, quando pensiamo, ecco, è la roba nuova di TikTok, la nuova, niente, tutto, ragazzi, non ci siamo inventati niente, c'era già tutto, dovevamo solo perfezionarlo al massimo, non possiamo, cioè, è questa la verità, no? Sta di fatto appunto che questo tuo iniziare amatorialmente è diventato poi una vera e propria professione adesso. Yes, sì. Io mi sono formata anche a livello universitario, si può dire così. Sì, sì, sì. Adesso da quando mi ha analiso, hai detto che è laureata in fisica, lo posso dire chiunque. Esatto, anche io ho una frangetta e anche io ho una laurea, sono praticamente lei. Mi sono formata in teatro musicale, quindi in performance art, perché volevo proseguire questa carriera e anzi nei tre anni di accademia mi hanno costretto a fare l'uomo, perché chi se ne voglia dire sotto questa parrucca c'è un uomo. Non diciamo, non diciamo, non svegliamo questi segreti. No, perché la voce è così femminile che non si direbbe mai. Ah, ma non perché sono alle 8 del mattino, hai pensato solo per quello. Sì, sì, perché sono alle 8 del mattino, signor. E poi è diventato un mestiere adesso, non lo faccio quante ore a settimana, full time, ho sempre dei lavoretti accessori, li chiamo così. Lo fai in smart working, diciamo, è un part time. È un ottimo part time. È un ottimo part time. Part time che, ma lo raccontiamo dopo la pausa pubblicitaria, vi porterà, se la seguite, a vederla su vari palchi e varie situazioni milanesi, perché sappiamo come Milano è una città che però dà tante opportunità dal punto di vista del bundle bug, giusto? Sì, sì, sì. Quella con più proposte, più variegata. E allora rimanete con noi, perché fra pochissimo vi diciamo anche dove si può andare a vedere, ad ascoltare, ad ammirare, gli spettacoli della Prada, perché sono tanti. Abbiamo un calendario fitto di appuntamenti che vi vogliamo raccontare appunto qui in diretta a Good Morning Milano. Quindi, piccola pausa. Rimani qua, Prada, che vogliamo parlare poi di tutto bene. Mi devi raccontare poi, ma come hai iniziato, cioè perché è la prima volta venuta in mente di fare sta roba? Segnatelo, anche questo mi vuole dire. Certo, certo. Quando è che hai detto? Dai, ok, da domani io salgo su un palco e mi vesto così e vi faccio vedere io cosa so fare. Voglio capire quando è che è stato quel momento. Nel frattempo andiamo con un po' di musica con Dua Lipa con Trading Season. Click, boom, Rose Villain, click, boom, 8 e 37 minuti, siamo sempre qui insieme alla Prada. Buongiorno ancora, Prada. Good Morning. Allora, diciamo appunto che vogliamo capire, però abbiamo parlato della storia del drag, abbiamo spiegato che cosa sono e chi come è Drag Queen, ma come hai iniziato tu invece? Come sei arrivata a un certo punto a dire, ma sai che c'è? Andiamo sul palco e facciamo questa roba. Lo faccio anch'io. Allora, è iniziato a settembre del 2018. Ok. Sì, poi dal Toilet Club Milano, che abbiamo conosciuto tramite Facebook. Faccio, ma vediamo il Lip Show, perché prima fanno il Lip Show e poi c'è la serata in discoteca normale. Lo vedo e faccio, ma posso fare anch'io? Sì, sì, abbiamo al solito lo slot per gli amatoriali, vieni, bla bla bla. E fino a quel giorno tu non avevi fatto niente del genere? Allora, lì ce lo facevo cosplay. Ok. Travestirsi da personaggi dei cartoni animati, degli anime. Ma va giusto che spieghi, perché dopo scontato che... Sia mai, sia mai. Sia mai, fatti, fatti. Sì, quelli lì che vedete in fiera quando c'è la Milano Games Week. Quelli lì, bravissimi. Io ero uno di loro, il mio popolo. E quindi sai, sapevo un po' cucire, sapevo un po' fare parrucche. Quindi ho detto, proviamo questo nuovo modo di travestirsi. Fare parrucche? C'è le parrucche che le fate? Eh certo, fare. Si prende la base e si acconcia. Si acconcia, sì, sì. Fantastico. C'è un business per parrucchei, per drag? Credo di aver tenuto solo i cappelli una volta una Barbie, ma giusto così perché volevo vedere cosa succede. Vabbè, si inizia da lì. Volevo dire l'emozione, non so come si inizia da lì. Volevo dire l'effetto che fa, come dicevi anche gli annacci. E quindi da lì hai iniziato? E poi appunto come? Allora, ho iniziato lì, allora il mio primo lip sync è stato Non voglio mica la luna, di Fior Daliso. Ok. Con quest'abito che mi ricordo era a rondine, quindi un mini dress davanti e poi quello che ho da dietro. Wow. Durante il breggio della canzone, il tacco, un sensibile tacco 5 centimetri. Ok. Ma niente con foto d'oggi. Esatto. Stamattina, giusto per farci capire, tacco con me? Un undici. Undici. Quello di Graceland, quindi è abbastanza comodo. Quello da undici e quello da mattina. Esatto, esatto. Pelle nera. Arriviamo, cioè quando siamo sul palco, arriviamo a quanto? Allora, l'ultimo spettacolo avevo un diciotto. Perfetto, ecco. Avevo un diciotto. Ok. Con un plateau. Io di solito non sono da plateau. Ok, via con un diciotto, però come fai senza plateau? Esatto, un diciotto senza plateau è una punitiva. Eh, ok. E faccio fior d'aliso durante il breggio e mi si stacca la gonna dietro perché viene impigliata dal tacco. Quindi la prendo e la uso come una mantella. La uso, faccio circo, faccio scene improvviso, improvviso, improvviso. Piace e sento proprio l'applauso, sento proprio il gasp del pubblico, il wow, 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 wow. Il famoso effetto wow. E quella è una droga. Basta. Ed mi sto detto, lo voglio risentire, lo rivoglio. Il pubblico è il più grande amante, è anche il peggior amante di una drag. Che ti ama la follia e ti tradicero un attimo, eh. E il mio primo nome non è Alaprada. No. Se lo posso dire agli ascoltatori. Ma sì, beh, è un nome tranquillo, nel senso… Il mio primo nome era Anastasia. Benissimo, perfetto. Da Anastasia, Anastasia. Molto divertente, molto divertente, però le cambiavo ogni settimana perché non mi stava tanto bene. Ah, cambiavi sempre il nome? Sì, per il momento ho tipo Rosa. Ok. Poi ho fatto Loretta Cucchiaini. Beh, 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 questa non è male, eh. L'Orella Cucchiaini. L'Orella Cucchiaini. E poi Che Carlini è diventato anche. Che Carlini è anche bello. Fino anche il DJ non si è stufato e fa ragazzi alla Prada. La conoscete? È da lì rimasto. Che ci sta? Che ci sta? Secondo me mi ha presente di più la Prada piuttosto che Anastasia. No, sì, diciamo che è Roma… Vedendomi. No, no, no. Apri anche più porte, diciamo. Come dire? Vedi, sono il mio drag che penso subito male. No, no, ma fatemi benissimo così. Comunque, la cosa interessante è che tu appunto sei andata anche ad alti livelli. Hai fatto anche una trasmissione televisiva a un certo punto, giusto? Tu sei andata bene, anche non più bene. Sì, dai, siamo… Spoiler. Spoiler. Siamo arrivati alla metà della stagione. Ok. Siamo arrivata settima su tredici. Insomma. Quindi top. E io non ho mai fatto concorsi drag. Perché c'è anche una gigantesca cultura di concorsi drag. Perché i drag che fanno concorsi, Master Queen Italia, Beauty Queen, Drag Factor, mille altre, adesso non mi ricordo. Ok, non no. Drag Race è il più grande concorso drag mondiale. Ok. Ecco. Inventato da RuPaul, credo, giusto? Sì, da RuPaul nel 2008-2009. E c'è appunto la trasmissione televisiva che segue tutto questo che andiamo e appunto tu l'hai fatto… In Italia, l'ultima, sì. Drag Race, terza stagione. Vabbè, dai. Com'è stato? Divertente. Ok. Un geneico divertente. No, è stato molto… Come quando vedi un unico come lui, è simpatico. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sa cosa c'è sotto. Simpatico, carruccio. Non chiediamo di… Cambiamo discorso, va bene. Ti salvo Prada, salviamo la Prada da questo momento. Ma che… No, no, va bene. No, è stata un'esperienza molto formativa, ma perché è un po' come l'università della drag, perché ti impegni a fare tutto. Adesso è in drag tutti i giorni. A cavolo. Tutti i giorni, anche per 12-13 ore di girato in totale. Però, cioè, anche il miglior attore della vita, insomma. Stefano Accorsi, te che non riesci mai dai personaggi, vorrei vederti tenere il personaggio 12-14 ore al giorno così, no? È favino, facile fare. Eh, insomma. Senza parrucca, senza tassi, senza contenitive, senza niente, così. Tanto un po' di BB cream. Ok. E devi recitare, devi cantare, cucire, fai runway, fai lip sync. Quindi ti sfida fare tutto quello che lo stereotipo di una drag dovrebbe saper fare. Che poi non sono delle capacità obbligatorie per fare una drag queen di successo. Però lo consiglio a tutte. Ah, bene, bene, bene. Quindi adesso, anche laureata in, dopo aver fatto un punto di fare frequentato l'università delle drag. Esatto. Quindi ormai ho doppia laurea per la Prada, tanto che appunto è così ben laureata che potete andarla a vedere anche in vari spettacoli a Milano. Raccontaci un po' appunto dove sarai e cosa possiamo aspettarci da uno spettacolo della Prada. Prada ne fai più di uno poi, sono diversi. Sì, faccio diversi stili, ho diversi venue in cui vado. Il 13 aprile, questo sabato, sono a Milano al Q-Lab, via Padova 21 o 24, non mi ricordo mai, con Super Queens Milano, che è questo nuovo tipo di serata di evento che portano drag estere. La prima ospite che abbiamo è Crystal Versace di UK, Drag Race UK terza stagione. Quindi Versace versus la Prada. Versace versus la Prada, esatto. Mi hanno detto anche che è molto stronza lei, quindi ho un po' paura. No, stronza non si può dire. Scherzo, no, scherzo. Possiamo dire anal? Possiamo dire, sì, 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 lo so. Ma che come diciamo prima, poi, oh, avete dei bambini, fatti i vostri a spiegargli cosa abbiamo detto. Dovrebbe essere a scuola adesso, dovrebbe essere a scuola. Quindi, quindi colpa vostra. Se ci sono bambini ascolto, è colpa vostra. Quello ed è Lip Sync in discoteca. Ok, 13 aprile. Sì. Dove? A Coulab. Coulab, ok. Quello si può dire, sì, si può dire Coulab. Ah, Coulab. Se si può dire, ok. Il Coulab piace a tutti. Poi il 21 aprile, che ne stavo parlando prima con Tamara, domenica 21, io ho una residence all'Atelier del Teatro delle Arti. Cioè ogni mese faccio il mio spettacolo lì e quest'aprile torno con Judy Garland, Vita, Morte e Miracoli. Judy Garland. Judy Garland è una... Gigantesca icona mia, icona gay, ma icona drag. Oh sì. Ecco. Poi il 5 maggio sono al Bacchelite Club, che è un jazz club stupendo, ci va anche la mia figlia Drag, Ama Supreme. Hai una figlia Drag? Certo. Esistono le famiglie Drag. Oddio. Io ho una figlia e un figlio. Mi si apre tutto un mondo adesso. Perché quando fai la Drag, la fai da un po' di tempo, altre persone vengono da te e ti chiedono a me, ma mi insegni, ma posso... e quindi si crea una famiglia. Chiamarmi tutto era troppo difficile, allora abbiamo chiamato i padri, i padri, i figli, ok? Anche perché in passato le famiglie biologiche rifiutavano il ragazzo omosessuale, transessuale, così, e quindi si creavano delle famiglie non biologiche, ma di scelta, con una mother, una house, una casa. Ad oggi purtroppo esiste ancora questo tipo di rifiuto dalle famiglie. Diciamo che i miei figli non hanno avuto questa sfortuna, quindi, ecco, lei si chiama Ama Supreme, Supreme come la marca, invece il mio figlio Drag, che fa il drag king, è Domo Valentino. Vabbè, ok. House of Labels. Infatti, House of Labels. Ah, bellissimo, bellissimo, ok. Ma questa cosa è l'house, non so, ma che dico una stupidaggine? Fermami, dammi una schiaffo, se ho sbaglio. E' quello un po' che viene raccontato anche con la famosa serie Pose? Sì, esatto. Ok, perfetto. E lì esplora molto il tema del rifiuto dalla famiglia biologica e quindi mi creo io e la mia famiglia. Ah, ok, ok, chiarissimo, chiarissimo. Allora, senti, facciamo una cosa. Andiamo con un po' di musica ancora, poi abbiamo qualche minuto prima di chiudere, ci dai gli altri appuntamenti e soprattutto ci racconti di uno spettacolo invece importante che ha a che fare con la proprio Drag Historia. Yes, con la storia del drag. Allora, poi quello ce lo racconti bene. Andiamo con una canzone che secondo me, vabbè, un po' è in stile, dai. Donna Summer è un po' quella roba lì, giusto? L'amo, yes. Donna Summer con... Oh, no, ho sbagliato. Molto bene. Mi sono emozionato, c'è poco da fare. No, no, adesso andiamo con Donna Summer con Hot Stuff, sempre qui a Good Morning Milano. Adesso ve la trovo, ben pianino. Prada, mantieni un secondo l'attenzione ai nostri spettatori. Certo, allora, cosa vi posso raccontare? Io sono nata il 24 novembre... Ah, non posso dire la data, mi spiace. No, quello non si può dire, però vabbè, 24 novembre... Ah, non sei scorpione per un giorno? Sagittario, poi con la cuspida in scorpione, mi chiedevo, infatti, da dove arrivasse tutta questa grande seduzione. Ecco la cosa, ecco. Donna Summer, Hot Stuff, a proposito di seduzione e cose calde. Hot Stuff, Donna Summer. Donna Summer con Hot Stuff, alle 8 e 50, qui su Crystal Radio. Good Morning Milano, allora, qua con la Prada, perché ci devi raccontare anche di uno spettacolo. Proprio sulla storia dei drag, del mondo drag, no? Del mondo drag. Si chiama Draghi Storia. Draghi Storia. Draghi Storia, storia di performance, che ho ideato durante la pandemia. Perché non potevo fare drag, avevo questo eccesso di zelo dentro di me, che dovevo in qualche modo... C'è un eccesso di drag che doveva uscire. Esatto, sì, un eccesso di femminilità che doveva uscire. E mi sono sempre chiesto, appunto, come mai io faccio questa roba, ok? Che ho iniziato vedendo Drag Race, quindi Drag Race che mi ha spinto magari a fare la drag, però prima di Drag Race cosa c'era? E ho scoperto che... Vedere una cosa che ti spinge e poi farlo anche. Esatto. Come quello che sogna il calcio e un giorno finisce a giocare contro Totti, cioè con le robe lì, no? Eh, Totti gioca ancora. No, non lo so, non credo, ma poi non seguo il calcio. Adesso fa l'influencer. Sì. Ah, anche io non seguo il calcio molto bene. Avete trovato le persone giuste. Dovremmo fare una trasmissione che parla di calcio. Dovremmo le persone proprio adatte per farla. Sì, sì, per me Gattuso gioca ancora. Credo di no, solo perché so che è stato male, qualcosa del genere proprio Cristo. Qualcosa del genere. Quindi invece Draghi Storia. Draghi Storia non parla di calcio, parla di drag. No, perfetto. Che appunto è un mestiere antichissimo e lo esploriamo in diverse epoche. Quindi come è nato, gli inizi nel teatro, il primo lip-sync della storia, le sorelle bandiera. Ah, è vero. Che sono state delle innovatrici comunque nel settore. Anzi, sono state fra le prime italiane, avevo fatto il tour italiano e poi in Sud America. Prima di Laura Pausini. Però... 50 anni prima di Laura Pausini. Ah, però... Eh, mi spiace, mi spiace. Le sorelle bandiera. E poi arrivai fino a Drag Race. Ok. E anche post Drag Race cosa c'è dopo il programma. Perché ci sono un sacco di altre iniziative, anche programma ITV. Ok. Cioè, tra in scena più o meno quando Draghi Storia stai lavorando? Allora, a fine maggio siamo a Roma. Ok. La prima data a Roma. Torno a Roma dopo Drag Race. Poi mi spaventa. Però vabbè. Poi a giugno siamo a Bergamo e dove avrei dei piani per settembre per portarla a Milano. Bene, bene. Perché l'ho iniziato... La prima è stata a novembre, sempre l'atelier del Teatro delle Arti. Però boh, non mi piace riportare lì un altro spettacolo. Mi piace portarla in un altro luogo. Tornerai nel luogo con un altro spettacolo invece l'atelier. E poi invece questo qua lo porteremo da un'altra parte. È una storia lunghissima, quella appunto del mondo Drag. L'inizio del secolo. Cioè è una storia lunga più di un secolo in realtà ormai. Condensate in un'ora e mezza con una decina di performance di Mixing. Ah, bene. Per anche far vedere al pubblico la differenza fra una performance degli anni 20 e una performance degli anni 90. Quindi com'è cambiato? Adesso io devo abbassare il livello, ma so che in realtà giochi in casa però. Perché? Volevo capire questo. Un'altra reference sul calcio. No, 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 no. Come stanno i legnanesi al Drag? Cioè come possiamo unire questi due mondi? Allora, i legnanesi... Io li adoro. Io sono di legnano. Infatti ho fatto una domanda apposta. E Felice Musazzi è stata la mia prima drag, tra mille virgolette, che ho visto nella mia vita da piccolino. Loro non si considerano drag, neanche le drag le considerano drag. Sono più intravesti. Quindi intravesti è un ruolo teatrale, un po' come Paolo Poli ai tempi. Che invece che un eccesso di femminilità che arriva, quella è la performance, quindi un eccesso di femminilità o mascolinità, è più rivesto i panni di un personaggio femminile. Anche se magari io sono un uomo di potenza. Cioè magari lo stereotipo di comportamento femminile, appunto la casalinga, quei casi legnanesi fanno, la figlia Vamp, questa cosa qui, però poi la figlia Vamp... Io non li capisco, non capisco una parola. Non mi hanno mai insegnato il dialetto. È molto divertente. Ah sì sì sì. Molto divertente, molto divertente. Questa per farvi capire insomma davvero che quando parliamo di questo mondo è un mondo veramente super ampio, in cui poi ci sono tante piccole nicchie, e però tutto insomma un grande mondo che è quello appunto del drag queen e degli spettacoli che appunto ci ha raccontato oggi la Prada. La Prada, grazie. Ma grazie a voi, grazie a te Fabio. Siamo arrivati alla fine, anche oggi. La situazione di Gombano in Milano. Mi raccomando, seguitela sui social, la Prada, scrivete... La Prada.we are all Prada, Instagram e TikTok. We are all Prada, we are all Prada. Lo segnate Instagram, TikTok, lo trovate, ma comunque se cercate su Google la Prada, drag queen, trovate tutto. Diciamo anche, non cercate solo la Prada perché viene fuori un ristorante. Esatto. Almeno a me, anche lì bisogna capire l'algoritmo. Se cercate soltanto Prada, viene fuori la marca. È quello, però l'interessante è che a me viene fuori un ristorante, perché l'algoritmo mi vede, sa cosa cerco di solito. Quindi bisogna capire se anche agli altri viene fuori un ristorante o altro. Bisognerebbe capire. Magari invece, non so, hai l'isla della relazione, magari vengono fuori subito le scarte. Beh, comunque io spero che la Prada al ristorante mi chiami per un evento lì. Vabbè, la Prada al quadrato è fantastico. La Prada al quadrato. Sarebbe fantastico. E allora andiamo con la sigla! E allora andiamo con la sigla!